La posizione sempre per Mario Leonardo con 194, seconda posizione per Angelo Fabri, terza posizione per Vandelli Vincolo. Ma c'è Vagar, Vagar tra di loro, vediamo chi riuscire a verla meglio. Ma c'è Vagar anche per la quarta posizione, tra il numero 11, 72, fatti, 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 fatti. Fatti, 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 f Ragazzi è al Fabri, è Fabri che non ci sta, una seconda posizione, mamma mia da urlo Fabri, ha fatto un salto e ci scelta da urlo, vuole proprio andare a prendere la maniera, vediamo chi dice la mela meglio, mentre la pista è lucidata tantissimo, come potete vedere vediamo cosa succede nella parte bassa qua, per cui lo cattivi quando la testa, alta la testa di cruz con questo vento.